No, non credo che abbiano avuto in mente quel fatto lì. Nella partita da giocare così, sono stati prudenti, attenti per sbagliare con tanti di quei gol che mi sembra che nella gestione potevamo anche finire il primo tempo 4-1, il secondo tempo facendo un gol in più. La sferta di Bacu è meglio farla in un altro momento invece che prima del derby magari? Beh, questo si è detto da subito, però c'è e quindi dobbiamo andarci. Grazie.